Noi eravamo contenti nel nostro quartiere, posto al limite del centro della città, il quartiere si estendeva fino alle prime case della periferia, là dove cominciava la via Aretina, coi suoi orti e la sua strada ferrata, le prime case borghesi e i villini. Via Pietrapiana era la strada che tagliava dritto il quartiere, come sezionandolo fra Santa Croce e Larno sulla destra, i giardini e l'Annunziata sulla sinistra. Ma su questo versante era già un luogo signorile, isolato nel silenzio, gravitante verso San Marco e l'università, disertato dalla gente popolana che lasciava i figli scavallare sulle proprie strade dai nomi d'angeli, di santi e di mestieri, nomi antichi di famiglie grasse del Trecento. Via dei malcontenti ne era un'arteria e un monito, via dell'agnolo, la suburra, sulla quale immetteva Borgo Allegri, dove in un'età lontana, un'immagine della Madonna dipinta da un concittadino immortale, portata in processione, si dannò a miracolare in mezzo al popolo, rallegrandolo. Panni alle finestre, donne discinte, ma anche povertà, patita con orgoglio, affetti difesi con i denti, operai e più propriamente falegnami, calzolai, manescalchi, meccanici, mosaicisti, ebettole, botteghe affumicate e lucenti, caffè novecento. La strada. Firenze, quartiere di Santa Croce. Il fanciullo poteva innocentamente contare le sue palline di terracotta, seduto sul gradino della casa di tolleranza, nel vicolo chiamato Via Rosa. Il popolano orinare senza rimorso, al muro sotto la lapide che ricordava la casa abitata da Giacomo Leopardi. La bella ragazza inorgoglirsi di abitare in Via delle Pinzocchere, che era una delle strade più pulite del nostro quartiere. Eravamo creature comuni. Ci bastava un gesto per sollevarci collera o amore. La nostra vita scorreva su quelle strade e piazze, come un alveo di un fiume. La più pensata delle nostre ribellioni era quale un mulinello che ci portasse a fondo. Non per nulla, le carceri della città erano nel cuore del nostro quartiere. Avevamo imparato a fare un viluppo dei nostri affetti, intrecciati l'uno all'altro da privati rancori, da private dedizioni. Eravamo un'isola nel fiume che comunque andava. Tra i carrettini del trippaio e dell'ortolano, il bugigattolo del venditore di Castagnaccio, lungo via Petrapiana, dall'arco di San Pietro, a porta alla croce.